Ciao ragazzi, buongiorno. Allora oggi vi voglio parlare di cose a cui ci tengo veramente tanto, spero di essere breve. Allora vi voglio parlare della Cellfood. Cellfood è questo prodotto importantissimo per me, l'ho scoperto sette mesi fa e in quel momento lì mi sentì con un amico carissimo Massimo Spattini, dottor Massimo Spattini, e lui mi disse vai subito a prendere questo prodotto. Questo è ossigeno liquido, lavora direttamente sulle cellule, è straordinario, io lo prendo tutti i giorni alla mattina, pomeriggio, la sera, io non prendo una lira per fare quello che sto facendo in questo momento, ma sapete quello che mi è successo sette mesi fa, e poi dopo che ho conosciuto Giorgio Terziani, che è il signor Cellfood in Italia, non posso che dire ragazzi prendetelo, perché molto spesso la verità è che noi prendiamo caffè o ci diciamo no, c'è qualcosa che non va, la verità è che non abbiamo abbastanza ossigeno, quindi l'ossigeno è il numero uno, lo sapete, quando andate là fuori e respirate in mezzo alla campagna e vi ossigenate e vi sentite vivi, questo è straordinario, soprattutto le persone che stanno un po' giù, molte persone mi stanno scrivendo e purtroppo mi dispiace molto da questa situazione un po' che c'è in giro, molte donne, molti uomini che sono un po' depressi, sono un po' giù, ok ragazzi la depressione può essere anche un problema fisico, nel senso che magari manca ossigeno, prendetelo.